Amici di Boracov TV, sono Francesco Cardella, molti di voi avrebbero preferito sicuramente Margherita Grammassi, ma io sono uno dei due presentatori della tappa Teleton di Trieste appunto assieme alla madrina Principe e regina di Spa. L'appuntamento è a Trieste, tappa Giuliana, programmata nella sede della Banca Nazionale in Piazza Ponterosso dalle 17 di sabato. Che direi, Teleton è una squadra che comporta un po' approvazione da parte di tutti, è l'insegna della trasparenza, è l'insegna del gruppo, è l'insegna della grande forza che comporta il sostegno alla ricerca, ai ricercatori, la vera battaglia, una delle grandi battaglie concrete, non solo virtuali, è il sostegno alle malattie e alle patologie agiretiche. Quindi intervenite, se potete, respireremo insieme un'ora e mezza circa di arte, di musica, insieme ad artisti come Andradinetti, Dennis, ballerini, cabarettisti, Michele Veronese è artista celtico, ma soprattutto cercheremo di porre l'accento sul valore, sulla concreteria del sostegno per Teleton e per coloro che soffrono e che si battono in questa battaglia. L'appuntamento quindi alle 17 in Piazza Ponterosso, tappa a Tento, con me e Margherita Grandassi, la bella e la bestia, alla bella e sopra. Ciao a tutti!